Allora, sono Marcus Gran, signore e signori, benvenuti in una nuova puntata della Techopolis, anche l'ultima in realtà, perché poi parto, oddio, che primo piano parto, in realtà parto il 9, torno il 20 e riparto il 21 per Villegis, che è un gioco di ruolo dal vivo, di cui ho fatto un sacco di video, quindi se cercate Marcus Gran Villegis trovate anche lo spiegone. Ma, ma, e dico ma, oltre a questa puntata ci sarà un po' di Astroneers e una miniserie a sorpresa per deliziarvi in essenza del vostro EBK nazionale, volevo dire, non naturale, che è sortono, e soprattutto ci saranno anche qualche live perché ho comprato un portatile e quindi potrò streamare. Magari facciamo qualche pacchetto che abbiamo visto con la chat un po' più sciallo, più rilassante, più tranquillozzo, ma anche farmoso, abbiamo visto una cosa, non voglio spoilerare, eccetera, eccetera. Quindi, signori, lieto, sperando di farvi lieta novella, io direi subito di iniziare a farmare, come è giusto che sia per la Techopolis, perché è davvero un pacchetto di farming pazzurdo. Allora, qui ho tolto tutte queste in Dacia Smelter perché qui abbiamo, siamo pieni di questo, batta abbiamo un problema, vi ricordate qui abbiamo un problema, abbiamo pochi lingotti dei netherite, ma chi è questo, scusa, non è il creatore di amica nice, ma parla più lento questo. Quindi, dobbiamo fare il nostro L, no? Il nether? Eccolo qui, dobbiamo prendere lui, pronto? Oh no, di nuovo il Bugs, di nuovo il Bugs Bunny, regà, bu qual era, cacchio, me l'ho scordato completamente del Bugs Bunny. Andiamo a prendere il, tu come vai? 19 stock, sono la metà, ti serve qualcosa? Ah, è la, 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 la netherite. Giusto, 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 la, andiamo a cercarla. Ma dove sta? E' più rara la netherite del cobalto, ma anche il cobalto può essere silenzioso, tranne quando cade per le scale, allora fa pim, pam, 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 pam. Però io ne la trovo, ne la trovassi. Don't, eh, don't trovo la netherite. Voltacce sua. C'era abbalto, l'allegro castoro, no, c'era abbalto, non è cane, non è lupo. Qui c'è cobalto ancora. Ma la netherite, da che colore è cane? Non è che mi sbaglio. Ah, ah. Ah, ah, lava. Siete molto arrabbiati? Mi dispiace. Posso uccidere suo figlio? No, va bene, me ne vado. Ah, va come lava. Sono molto sfigato quando succede. Eccola. Allora, calcolando che io posso versare dei liquidi, ma non l'acqua, posso incurare minecraft? No, sembrerebbe di no. Come? Ok. Allora, facciamo così, ma niente. Ti frego. Te sto a fregare? Ti ho fregato? Ogni tanto il netherie mette suoni strani. Porca. Ok. 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 No. Se... Come è che si apriva? Scusa. Bam, on. Quindi se io faccio così... Perfetto. Signori. Bam. Ok, 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 ok. Pensavo fosse peggio. Pensavo potesse piovere. Voilà. Ne abbiamo... Qua sotto che c'è? Scusate. Ah, sarà sicuramente laggiù. Sì. Che zella. Sì. E vabbè, comunque ci dovrebbero bastare, mi dicono dalla regia. Perché ce ne dovrebbero volere 106. Non lo so, eh. Non lo so. Non so se fidarmi. Andiamo a casa? Sapete che non so se col sintaccio... No, col sintaccio, col coso della meca non riesce. Non penso. Facciamo sempre speculare che è molto comodo. Guandina. Mi piace risolvere i problemi dei... Quando abbiamo poche cose. Perfetto. Di qua. Perfetto. E ora smadoniamo per avere i flux. Non è vero, ne ho fatti. Sono sicuro di averne fatti. Sono talmente sicuro che adesso non sono più sicuro di averne fatti. Oddio, ne ho fatti. Miner. Eccolo qui. Le avevo... Mamma mia, ne avevo fatto uno stack. Sono bravissima. Sono bravissima. Ok. No. No. E il miner, signori. Adesso dovremmo farne una decina. Ottimo. Tec, tec, tec. Questa è più migliore assai. E poi il solito discorso. Universal Cable. Che tanto questi consumano soltanto 500. Quindi io non capisco perché continuo a upgradarli. Oh yes. Oh. Yes. Ora. Già me ne dà tre. Giusto? Però tre sono pochi forse. Sono pochi? Se voi foste pochi. Ah no. Così non ci posso fare nient'altro. Scusa, me la tocchi la vedusa? Sì, per forza. Per forza. E per forza. Allora, vabbè. Non è che possiamo stasette. Sì, eh. Il massimo è 13. Qualcuno perentorio in chat. D'accordo. Scusa, fra. Opla. Strafico. Questo magari lo potenziamo perché facciamo schifo. Oh, sono riferiti. Ok, vattene. Perfetto. Allora, quindi vanno a triplicarsi. Poi vanno a cuocersi. Giusto? Eccoli qui. Che belli che sono. Dopodiché ti vado di qua. E qua, scusate. Si cuocono. Ed ora per riferire il nostro amico. Ne facciamo un altro? No. Decisamente no. Ma è al massimo questo? Madonna. Minchia. Minchia. Davvero, veramente. Va bene, va bene. Facciamola così. Ci rifletto. Ci rifletto. Se fare un altro o meno. Ma se lo faccio off camera. Quello che voglio è ricordarvi che cacchia avevo fatto. No, scherzi a parte. Ho fatto il platino. E adesso lo vede. Il blazing. Ah, l'ho divisi. Guardate. Qui c'è soltanto il blazing e quelle potenti. E qui c'è quello piccolino, tipo l'energizer, che serviva per dei crafting. Quindi adesso stiamo bene. E... Mi sento bene. E... È giunto il momento di andare a vedere come si fa l'end. Dunque! L'Infused Ender ciccio ciccio era la somma di questi tre. E fino lì... Abbiamo un sacco di queste che avevo fatto. Induction smaltò. Già tutte belle modificate. Secondo me ne usa otto. Otto non si può affa' Otto non va bene. Se no è un po' Sarà lento questo, eh. Sarà molto lento. Molto lentone. Quindi... Facciamo così. Facciamo così. Expert. Sì, il platino preso... Il draconium preso su Wish, è vero. Opla. 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 Oh, grazie. Mi ha dato anche gli upgrade. Mi dicono dalla regia che è lentiss... Simo. Minchia! Non è lentissimo di più! Ma tu stai fuori, frate, ma... Ok, perfetto. Guardate che tecnica infallibile. Bam! Bam! Molto lento, regà. Facciamo così che non si sa mai nella vaita. Facciamo così. Vabbè, non è che li devo fare tutti con voi, eh. Giustamente. Però... So che a voi piace vedermi mettere... i fregater qua dentro. Ma sì, mettiamo a otto e quindi ne farà sempre otto, no? Saranno otto? Quanti non metti? No, 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 tu no. Ma neanche tu no. Allora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Così, per gradire. Quindi facciamo il solido sistemino del drawer. Ok. Ok. E... Perché mi fai questo? Pusillanime. Maledetto. Maledetto. Ok. Logistic. Non credo che ci serviranno. Perché mi fai in blu? Davvero non ti voglio il blu cacchio. Opla. Dovremmo esserci? Dovremmo essere. Intanto, se ci ho messo qualche altro speed upgrade, raga, state tranquilli. Non puoi infilarci lì dentro, quindi... Il solido external storage. Grande compagno. E servirebbe loccare tutto quanto. Perfetto. C'era uno che non mostrava il... Uh, stiamo salendo. Ottimo, ottimo, ottimo. Molto benissimo. Questo è fermo perché è tutto pieno. Bene. Ok. Ce l'abbiamo. Ci facciamo qualcosa con questo? No, solo roba da crafting. È un po' brutto così, però va bene. Il dragonium, invece... Già ce l'abbiamo. Giusto? Sì. Sì. Già ce l'abbiamo. Siamo felici. Siamo felici? Mi sento felice? Mi sento felice. Qui abbiamo questo. Chapter 6. Il dragonium preso su Wish. Questo l'abbiamo. Questo è il landerung ingotto preso su Alibaba. Bene. 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 Andiamo avanti, allora. Cosfruit. Pimpo Pampo. Mia lite e Nether Technium. Allora... Allora, facciamo così. Quello che fa le plate si chiama Metal Pressure. No. Lo devo costruire? Dai, com'è possibile? Non mi ricordo come si chiama. Scusate. Multiservo. Multipass. Giusto, cazzo. Perfetto. Lo mettiamo, lo mettiamo in un luogo vuoto. Non qui, perché purtroppo mi serve. Non qui. Ho riempito tutto? Non ci posso credere, frate, ma... Ecco, infatti. Lo mettiamo a ca'. Scembre sopra, ci mettiamo. Questo è l'unica cosa che ci andiamo a mettere il... Il downgrade. Che non ne voglio stoccare così tanti, amico mio. Almeno spero di non doverne stoccare così tanti. E' l'ingotto finale, amici. E che cats? No, export. No, external. Export. Voilà. Ributto dentro questo, se no mi metto a craftarli tutti quanti. Allora? Dobbiamo mandarci? Dobbiamo mandarci questa. Ah, no, no, il cappello perché fa caldissimo, eh, boys? Ok. Dietro. Scusate, ho sbagliato tutto. Era questo. Perfetto. Ora, se lui è marrone, perché quando viene versato diventa rosso? Ha un animo romantico? Non lo so. Devo essere... Devo essere molto sincero con voi. Non ne ho la più palita idea. Potrei velocizzarlo? Sì? Voglio? No? E quindi, signori, abbiamo anche il terzo componente. Giusto? Giusto. Ora, analizziamo quello che non abbiamo. Il Lender Crystals Bug Influence. Nel Tree Assorber. L'albero del land. Quindi devo fare un sacco di Tree Assorber, perché pure quest'altro è... È Tree Assorber. Ecco il co... No, questo è un tipo di stone, giusto. Che vende il tizio, però. Attenzione. Tu sei rosa, come ti permetti? Allora, Tecnium. Tec, 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 tec. Ragazzi, 5x5x5, sbaglio, fa 125. Bravi. Siete morti? 25x5. 5 al cubo. Siete forti? Brava. 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 Che cazzo c'è? Market. Dov'è? Eccolo. Eccola. È troppo bello quella che hanno le voci che parlano così. Io non ci riuscirei a stare dopo un po'. Bam. Mi? No. Mi? Mi hai? Ah, ma allora ce l'abbiamo tanto. Non posso self comprarlo, vero? No, non posso. Allora lo mettiamo qui. Scusate, c'è avuto un raptus. Oh no. Ah, ma questo mi stancola tutte le cose, raga. Basta, che fai freghi? No, facciamo così. Shbam! Quanto mi piace fare? Shbam! Oddio, c'è l'acqua. Shbam! Ancora. Shbam! Shbam! Scusate, c'è avuto un attacco. Cos'è sto brobrio? Sembra un serpente. Scusate, c'è avuto un attacco. Questa è rotta. Allora, uno, due, che sarebbe il terzo, però va bene. Quindi questo sarebbe quattro e poi cinque. Ha strane venature. D'accordo. Un miner. Ce l'abbiamo. Lo stone miner. Il mio amico miner vuole la energia. La energia. Ed è lento come la merda. No, vabbè. Comunque possiamo fare il Possiamo fare questi piccoli qui? Oh, chezza! Uno, due, tre, quattro, c'è, sei, set, otto. Ok. Bam! Giù nel canestro. Eh! Eh! Eh, non lo so. Voi lo sapete? Io non lo so. Quanti ne vuole? Ne vuole 64, vero? Beh, vuole 64. Regà, non possiamo averne uno al secondo. Ma tu stai fuori con l'accuso, zio. Facciamo una cosa fatta bene. Bam! Bam! Ari Bam! Pure tu? Perfetto. Quello dei sette peccati capitali. Ehm, Wanda? Wanda, bene. E facciamo anche così. Per piacere, grazie. Ma no, no. Sì, sì. Quanti ce ne ho? Ah, Kraft? Dieci. Grazie. Già fatto? Quindi sì, adesso li metto qui. Aspetta, però non ce li ho. Qualcuno suggerisce di fare le 54. Un'idea malsana, ma... Qui potrei accettare. E adesso dobbiamo fare una cosa orrebonda, ovvero l'Universal Cable che gira tutto intorno. Perché non abbiamo i cavi del landeraio. Tizio del landeraio, ti prego. Ti prego. Torna da noi. Lo so che ogni volta ti aggiornano il gioco e mettono lo squid luminoso e tu devi riscrivere tutta la tua mod. Lo so. Lo so. Li odio anch'io. Li odiamo tutti. Anche loro si odiano. Bene, bene, bene. Ora, credo di dover fare un rapido calcolo. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. C'è un momento freudiano. Adesso te lo dico. 56, 62. Ne ho già sei. Era? Oddio. Ah! C'ho detto, 64? Giusto? Giusto, giusto. Scusate. No, perché c'era la chat che mi stava dicendo che ne ho già sei di questi. Ah, ecco perché i numeri erano sballati. Ma posso craftare direttamente? Facciamo così. Fatto. Non era difficile. C'è un po' più tragica. Ovviamente stacca ad otto e quindi... Opla, opla, opla. Ma che bello che è spannare. Anch'io spammo. Vogliamo bene al tuo principio di alzare. No! Non so, Magix, se mi piace che tu mi prendi in giro per la memoria, eh. Non so, Magix, se tu mi piace che tu prendi in giro. Alloi? Hai problemi di memoria? Chiama il numero in sovraimpressione. Hai problemi di memoria? Chiama il numero in sovraimpressione. Facciamo così? L'ha messo ovunque, tranne dove lo volevo. Va bene? Eh, ci vai, andiamo, andiamo, andiamo. Opla, opla. Opla, o... No! No! Perché prova a risolvere un problema in Regrao 2? Opla, opla, opla. Velocizziamo. E dovremmo avere tutto, signori. Incredibile, incredibile. Mi hai lo vince. Beh, non so se è stato 4 al secondo, però sono felice. Ora. Ora, ragioniamo invece su l'albero. L'albero! No, aspetta, 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 aspetta. Allora dobbiamo fare questo. Aha! Aha! E allora, andiamo nel LED. Sì, un buon flusso costante, come in quei giorni. Mi potresti droppare una... Sio. Sio, un mori, scusa. Tanto tempo fa, quando riuscivo ad andare nel land, facevo subito la... La farm di Enderman. Non si è persa quella cosa? Ma dove sta il Fregate? Fregate? Eccolo lì, il Fregate. Il viaggio per l'Elytra è inutile, esatto. Remote Getaway. Allora, di solito... E io ci metto... Che cazzo? Ah, regà, era questo il materiale. Vedi? Comunque davvero sembra il Draconium dei poveri pure sta roba. Ma dentro c'è qualcosa? L'ho rotto troppo veloce. Non c'è il cazzo. Va bene, va bene. Però, in questo caso, noi non stiamo cercando l'Elytra. Stiamo cercando questo, lo Scorus Cicciolo. E credo che ce ne servano tanti, perché... Ne vuole otto, regà. E non è istantaneo il... Il coso, eh. Il Garden Cloth. E non abbiamo altri modi per farlo crescere. Sì, ci stava anche il... Ah, è vero, l'Isola degli Slime. Bravissimi. Quanti ne abbiamo? Undici. Vabbè, sì, 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 sì. Ci potevo mettere il Bon Mill. Ok. No, mi servono le foglie, mi servono le foglie. Non erano le shares, è vero? Era la... Era la... Ora in legge. Posso... Posso leggere. La Kama. Kama, 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 Kami, Kami, Lio. Parapapa. Casco nel vuoto. Blam. E ci serve anche, ovviamente, la terra. Oppure... Potremmo prendere questi. Quanti sono? Pochi. Sono pochi. Perché dobbiamo cuocquerli. E ce ne servono 16 all'ingotto. Mmm... Fanno 16, no? D'accordo. 20 vanno bene. Ci sono altre insole nei paraggioli? Eccolo lì. Così prendiamo un po' di foglie e possiamo spammarle. Che bello avere la cosa che... No! Pala, si struzzo. Struzzo. Dicevo, che bello avere la cosa che comunica attraverso le dimensioni. Wait! Ma io non posso farmare loro? Ah, no, è vero. Non ci stanno i cosi. Non posso fare mob grinder di nessun tipo. Non me lo fa sdoppiare. Bestia schifosa. Muori. Ultima degli ultimi. Intanto me li prendo, perché sì. Ok. Signore, abbiamo tutto. Io direi che delle litra non ce ne facciamo. Niente. A meno che non ce lo dica lui. Quindi tornerai a cacetta. Così. No, non si possono farmare, raga. Non si possono farmare con... Ho provato con i corse fruit e solo con il garden. E il legno... Ma non era questo? Qual era il legno, scusa? C'è un momento di... Un momento di trasalimento? Ah, no, questo. Questo... Eh, no. Non ce ne va. Non ce ne va. A meno che non faccio una farm di... Ma come li spono? Non li puoi sponare in questo. No. Non ce ne va. Non ce ne va. Non ce ne va. Allora, il garden ha dei componenti che si fanno a mano. ma io li faccio così. Non è vero. Ah, che fatica a vivere, ragazzi. che fatica a vivere. Che fatica a vivere. Quindi, redstone. Boh, ne faccio uno stacchino. Sorry. Copper wire. Glassone. So che c'è la crafting table del coso, eh. Però... e questo qui ne facciamo fare un 60 guattrino. Vediamo. Lento, eh? Forse non ci ho messo il compound. Eh, il crafting manuale mi uccide dentro. Soprattutto a questi livelli. No, non è lento. È il massimo più... Menchia. Menchia. Ma ci sarà un altro crafting? No. No, non lo facciamo. No, secondo me non è il caso di fare l'autografting, regà, mi dispiace. Così ad occhio no. No. Va bene. Ora torniamo seri. Dov'è il tinker table? Si chiama table? Si chiama tinker table. È la table del tinker. Table. No, dai, come si chiama quel robo? Tinker. Perché non è della tinker, regà. È della immersive engineer. La voglia cercarlo. Bam, bam, bam. Sbara, sbam. Sbara, sbam. Trenta. Va bene, trenta. Sono accettabili. Diciotto. Diciotto sono accettabili. Io direi quass. Oddio, però, mi serve anche l'acqua infinita, eh. Ma sì, ma facciamolo lì, ma che ce frega. Facciamo così. Ci ho ripensato. Sono molto volubile come persona, però. Facciamo qua. Qualcuno dice Marcus, ma magari del Final Eingot non te ne servirà così. Vergognoso. Noi dobbiamo farmare, amici. Non è che possiamo farmare poco. O farmare male. Noi dobbiamo farmare. Non farmale. Cioè. No, eh. Pattigliani è amicizia lunga. Meca. Cable. Solo questi? Sì, forse. Meccanical. Grazie. Logistical. Grazie. Allora, la corrente è da sopra. Perfetto. Dopodiché. lo prende dal centro, vè? Yes. No, i meccanical lo vanno di qua. Et voilà. Andiamo a prendere un render chest. Andiamo a prendere un render tank. Quanto vi costa una tank invece di comprarla? Ma la faccio. Ho deciso che la faccio. La faccio. sto registrando. E' che sto da due ore a non cacalacciate e a non registrare. No, sto registrando. Sto registrando. Tranquilli, boys. Ho tutto sotto control. Era lei? No. Era lei. Ora non sarà il centro preciso, però io la metterei qui. 2, 4, 6, 8 2, 4, 6, 8, 9 se facessi così adesso è il centro preciso. che lago. Prego, prego, prego. Non c'è non c'è di che. Non ho mai capito perché hanno messo aspetta forse forse io non volevo questi scusami volevo questi ok. Allora dicevamo Chorus Freud con sotto l'Hanston ce n'ho 7 di Hanston regà, non è possibile dai. Ho distrutto cose ho spappolato persone com'è possibile 7? c'è draghi sono morti cose sono usate dello zaino? Non c'è neanche nello zaino Allora vediamo un attimo allora lui cresce e vi posso assicurare che questo non è un testicolo al contrario più o meno che ha dei problemi perché è palese che questo testicolo al contrario abbia dei problemi enormi sta crescendo ora la domanda è lui c'ha qui airfreak se io faccio così vedi vedi non gli piace non gli piace mi piace dall'alto non posso fare così vero? no peccato sarebbe stato bello metter tutto dietro zio e infatti va bene va bene siamo consapevoli del fatto che fai le cose di merda tizio l'immersive engineering opla 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 l'unica cosa che vorrei da questi cavi è una modalità in cui tu dici li voglio mettere tutti in export e loro già si mettono in export sarebbe figo dobbiamo risolvere il problema fastidio e lo facciamo così perfetto certo che ce l'ho solo vabbè vergognoso opla 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 voi mi insegnate che possiamo velocizzarli con il bombill ma il bombill non ce l'abbiamo e devo essere sincero non ho voglia di farmare una roba così da poveraccio quindi li sta mettendo al contrario no porca di quella ti odio ma scusa ma accetta il terreno sotto e la pianta sopra no non fare il contrario cioè bastardo quindi dall'alto verso il basso così 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 cosa ci siamo ci siamo quasi siamo pronti ce l'abbiamo fatti perfetto dicevo speedare speedare guarda che un'onda ooooh potremmo speedarli e come dicevo il bombill le ossa me le fa sdoppiare sì sicuramente eccole però ricordatevi io sto fa sto usando questa cosa per le nether star questo ne vuole 10.000 bicchieri di biliardi vediamo se va bene ok e se va male ci rimboccheremo le lacrime le lacrime va bene le lacrime dunque l'ultima cazzo questi 16 ce ne serve raga di questi 16 sono un bordello sono un bordello il limito l'abbiamo fatto la puntata scorsa shit shops no volevo fare la questo voglio fare il macchinario scusami fra potremmo buonasera tutti sono franco califrano non credo di esserlo facciamone 12 eh va bene oh mio dio no vuole pure la forma strana ma allora tu sei bastarda ma allora tu sei bastarda e anche un po' pignola non hai abbastanza foglie disse il conte asciugandosi la fronte ma la verità amico mio è che se ne piantiamo uno otterremo le foglie da quell'uno per poi piantare il secondo al mio segnale scatenato in inferno ma me ricordo il nome dove slime qualche cosa ecco si dopodiché si chiama wood si chiama log greenheart è lui però lo devo mettere lontano che coglianz facciamo così eccolo 1 2 adesso si è sparito ok che palle questa meccanica sembrava carina prima di scoprire che ne dovevi fa 700 a quel punto è diventata un po' tediosa perché lasciameli potenziare no ecco se un giorno voleste fare una mod sappiate che c'è una cosa da tenere a mente non dovete essere il tizio della thermal che fa 4 upgrade e il quarto fa cagare e va lento come la il coso non voglio dire cosa però avete capito qual è la cosa che va lenta ecco fatto si ma qui basta fa un tasto magico che si monta da solo capito ci siamo sembra di sì fra e allora andiamo di corrente universal quanto andrà veloce questo lo romperti allora vabbè giustamente nethers davvero una merda davvero una merda ma qui qui di foglion non si foglieva e tocca spammare che merda vogliamo ora copiarlo col building gadget bravo Gino col copy con questo copy paste copia la pasta force position sets force position set beh buono no? questa è l'aria bene ora facciamo incolli ragazzi è chiuso il gioco si è chiuso il gioco il gioco è crashato class code expansion direwolf 20 building gadget common world mock cioè faccio un trapianto di capelli per poi mettermi le mani nei capelli abbiamo perso il mondo intorno alle ultime puntate dopo tutto questo farming per il copy paste mi sparo sulle palle è la fine ragazzi ciao a tutti e grazie per avermi seguito non è vero vediamo un backup vediamo un backupino dai facciamo vedere la retroscena a quelli che stanno su youtube che non vengono mai live bastardi ehm eh ok ehm da vabbè io ce l'ho tra gli screenshot istanza techopolis backups allora no ma che cazzo vuol dire alle 22 e 35 ah le 22 e 35 d'accordo si può fare che strano modo di visualizzare no questo è 08 regala non c'è settembre ma com'è possibile ma questo è 08 è agosto è agosto vabbè comunque c'è un'altra soluzione che stavo pensando io entro qui dentro dentro del mondo prendo la building gadgets ok e la tolgo non sto scherzando la tolgo la metto qui ok ora se mi ricordo come funziona minecraft ma per per esperienza non perché io sia un programatore se io la la ricarico ma di solito i backup si fanno in automatico non è che li faccio io che premo il tasto backup se io adesso la ricarico non può crashare perché non esiste vorrei mettere la la musichetta del detective conor ma non posso perché su youtube abbiamo il copyright strike ecco perché dovreste venire in live ma non queste tre settimane perché non ci sono no no o forse si live from vediamo grazie al boni che arriverà per sempre il mio canale adesso al boni grazie ai 10 sub gift allora signori ce la fa entra e non crasha è andata è andata backup ma come ftb ftb backups start boys il mondo il mondo è salvo ce l'abbiamo fatto il backup è fatto mi era crashato provo a coprire questo e mi è crashato porca di quella tro e quindi niente tronzola va bene allora facciamo così questo qui li facciamo noi a mano però successivamente non adesso perché mi sbomballo le sualle resta che risalutate durata tantissimo e facciamo così andiamo a prendere io riproverei ma certo il veneno percusco cusco e il suo veleno ma c'è una shift io mi mozzica il coso il coso sembra strano detto così però era il braccio è molto lento è molto lento è molto lento se copri solo l'albero dovrebbe funzionare però dovrei richiudere rimettere la building gadgets e va bene e poi sono un albero quindi esatto allora signori ci serve abbiamo fatto abbiamo fatto ci serve il network eccolo qui non ne abbiamo fatto un altro no non lo so va bene questo non è bello prima di andare potresti chiedere un paio di caffè oh ma guarda tu mi fa le facce da marcia poi le chiede una cortesia si butta per terra e si finge morta cioè ma mi sembra normale capito quando stai sul letto quando stai sul letto amore mi porti dell'acqua un orzo vorrei del melone mangerai della paprika ma che schifo tu e l'orzo bimbo no 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 dai questo serve ancora si serve ancora il transmitter lo mettiamo qui no a me l'orzo bimbo non mi piace si che ti devo dire è buono è buono ma è buono qui o è buono lì è buono lì bel tè ma guarda che stiamo facendo verso di grassi stiamo facendo l'ultimo lingotto incredibile finale schissimo so 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 dove mettiamo qui qui stai calma non hai coco bimbi e coco coco opla bravo perché scusa non ho capito quel bravo ma che mi sono ricordato ho detto ho fatto il verso ma per favore oh oh no ho appena scoperto non lo sapevo che che ma complimenti che quando ti tele trasporti te lo in culo ma proprio te lo frega capite non è bella mi prendi un po' culo by craft vanilla colpisce ancora quindi però se io adesso lo posso lui riceve il segnale no non è vero forse era qui forse era qui ma va te innaffratta da madre un piccione va bene ci mettiamo qua dai ci mettiamo qui senza motivo apparente opla ope ope gliel'ho fatto vedere la chat ah ecco sì perché metterei aspettato che i modi si caricassero ho raccontato del fatto che mia madre ha appena conosciuto i coreani e quindi io le ho fatto vedere l'unica cosa utile sui BTS la napoletana che 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 satana sino a preto sino a preto ok funziona funziona quindi cavi export cavi ci si 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 vedebbero un secchiello di quella roba per caso ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo porca dai 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 so facciamo uno flux opla non è un posto non ti spara nessuno non esplode niente nel nether no nel nether no va bene fare le facce brutte dai non ti serve no body lo sai perché ti odio perché odi le donne bravi no ci distociamo ovviamente da queste cose che dice sofia io mi distorcio in primis falso tu mi mandi arrestato un giorno arrestato sì sì ar bene d'accordo sì bene è il momento dipende di tutti i materiali i miei cavi il draconium haigot non ti guardo ti vedo che fai le boccacce l'infused mio nonno il minelite ma mi sono dimenticato di cuocerle cavolo nel frattempo le plate di nether spaspos infine mi scordo a botte molto buona che mani qui c'è io ho le mani il chorus è anche un po' fraut tutto bene lo mettiamo qui le cose come vedete intrano grazie di dalla splendida presenza di sofia qui al mio fianco siamo tornati nell'overworld per prendere un bel secchiello di molten cicciolo un bel secchiello e fare giustamente la farbina che cuoce quei cosi quindi potete capire io ho un goblin ho un koboldo accanto che fa perché si muove e si agita perché lui mi ha sporcato gli occhiali e quindi io mi vendico in questo modo stessi dicendo cose stranissime va bene abbiamo 300 giovani e forti e sono morti quindi bam barabam e sbim perfetto ci mettiamo il compoundino qui e un flux dove sta? qua solita storia sempre con il drower boys così li stocchiamo ma che stai a fa? mi sta respirando i peli del braccio le capo a me sembra normale di che stanno? di peli di peli vi posso assicurare i signori di youtube che Sofia non ha assunto sostanze cioè non ha assunto droghe non ha assunto sostanze che è sostanza è vabbè magari un farmaco dobbiamo fare il coso la puntura la puntura dopo te la faccio la puntura sembra che una cosa è apocalittica bene external storage exterminate 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 il dottore ed amico dei dalek e dovremmo esserci ci dovremmo essere signore andiamo a posare quindi il liquido qui dentro e dovremmo vederlo entrare copiosamente poco copiosamente forse dovremmo farlo andare più veloce perfetto e adesso e adesso i slime yender slime crystals a finire i miei cari ragazzi lento ma inesorabile stiamo per craftare il lingotto finale no il lingotto dell'endem che non è il lingotto finale ce n'è un altro attenzione molto interessante ed eccolo si land techium ingots meno 60% di speed incredibile incredibile prendiamo un altro drawers non me lo fa prendere bastardo lo mettiamo vabbè lo mettiamo qui mettiamo logistic boys dopo tanti affari anche questa è fatta dimmi aiutami a dire ma perché con questo tono perché bam tutto visto io direi che per adesso come abbiamo già fatto prima ci mettiamo un downgrade eccolo qua eccolo perché non funziona c'è qualcosa che lo rompe bam allora signori vediamo un po' se siamo in un chunk più o meno porca devo ciancarlo off devo togliere dei cianchi ciancati e farlo qui perché poi lo sposto tutto di uno o lo metto qui sopra non lo so si lo metto qui sopra dai facciamo così bastardo perfetto perfetto adesso è perfetto opla opla e opla molto bene dopodiché devo ciancare questa questa zona qui e boys vogliamo vogliamo fare uno spoilerino questi periciappo perché ci saranno sicuramente utili togliamo questa brutta visualizzazione torniamo a casetta magari ci andiamo da qua guali e andiamo a vedere le questone madonna ah dobbiamo prendere il drago e vuole che facciamo il pannello solare vabbè senti sai che te dico ormai mi sono detto sto pacco lo finisco al 100% prendiamo il dragons dove sta questo se qualcuno si ricorda nel mio let's play dove cazzo ho messo un export che mi un external storage che mi mi causa questa problematica vi prego segnalatemelo nei commenti vi prego opla si possiamo anche aumentare il chunk i chunk i chunk chunk chunkati da config facciamo così così perfetto ta 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 che meraviglia quindi abbiamo tutto fatto ah è vero c'è la cosa dell'applet vabbè quella dell'applet che abbiamo scelto di non farla e quindi vaffanculo no nascondiamo abbiamo fatto questo questo e per finire l'ultimo capitolo prima dell'ultimo capitolo ci serve il pannellino solare quindi boys abbiamo quasi finito il pack ci manca il final technium che si fa così in realtà non è neanche porca sozza what fuck fuck ah ok quanto ne vuole mille ah ok ci dobbiamo ragionare e dopodiché ci sono le challenge molto 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 interessanti alcune sono già fatte altre dobbiamo finirle però queste sono interessanti abbiamo quasi finito un pacchetto montato tecnico tutto preciso 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 siamo stati bravi siamo stati bravi signori io vi sal lustro vi ricordo che il prossimo episodio di questo pack uscirà a ottobre e vi ricordo di controllare di soprattutto di controllare il canale telegram che trovate in descrizione perché lì mettiamo tutti gli aggiuntamenti di quando andiamo in live quando siamo in vacanza e di Sofia che shakira shakira come shakira viso al lustro ci vediamo presto ci sentiamo presto bella per voi ciao